c'è nessun animale mamma ma qui non c'è nessun animale qua non c'è nessun animale però non ho letto da dove viene quella è quella siberiana dove sta questo leone voglio fare una foto non mi hai visto al vivo non mi hai visto al vivo soffi tieni la piantina dai tieni la piantina ognuno c'è la macchina fotografica ok? deve fare tutte le foto in più una foto più bella di qua di qua di qua di là di là di là alleluia alleluia chi è qui? qua ci sono ieri fatti ma non ci sono più perché? ah tieni però io voglio andare a vedere Tilario un attimo solo sono le mani occupate voglio andare a vedere Tilario papà e a vedere Tilario Adesso! Perché? Vieni poverami! Chi sono? Che belli! Ma sto facendo il video papà! Amore mio, il video è quello rosso! Ok? Non fare il video, fai le foto! Vediamo, stai facendo il video? Stai facendo il video? No!